E benvenuti a tutti ragazzi qui parla The Pascal D.C. Off e benvenuti in questo nuovo video E siamo in compagnia di mio fratello Oggi ragazzi siamo ritornati su BANDI Ok allora spostiamo questo qua E ragazzi iniziamo Iniziamo Ok sempre qui Allora ragazzi siamo qui per fare La MODIMUSERB Quindi cosa proviamo Allora facciamo CLONBUD Possiamo fare No lo puoi salire soltanto quando Sbagliate Quindi possiamo provare a sbagliare Per il tempo Facciamo stop bug Se ne facciamo stop bug Non ci può prendere ragazzi Allora Se ci prendi vuol dire Tant'è scoppato lui Allora You need to collect two notebooks before you can use these doors Sbagliate Si inclicca nei banchi sto Sta persona qua Ok Sbagliamo tutto Yeah siamo degli asini Che stai siamo asini Siamo asini Pubblicità spezzata dove la taglio Ok la pubblicità è finita Allora ragazzi Allora Intanto Abbiamo la porta Dove è Baldino Eccolo là Baldi Allora adesso Proviamo Aspetta Aspetta No A clonare Aspetta Innanzitutto Allora ragazzi Possiamo mettere Madonna Che faccio C'è il saltacorda che deve rompere Se non rompe Se il saltacorda non rompe Ok però Ok uno Eh vabbè Che cacchio però Uno Due Perché non salti Lo salto però Tieni Non me ne conto però Uno Due Tre Quattro Cinque Come ci ho fatto Allora Facciamo Il no clip Mettiamo i cloni Mettiamo i cloni Di balzo Aspetta Ok Ragazzi ho messo il no clip Quindi adesso posso passare Attraverso i muri Che figata Passiamo attraverso i muri Passiamo attraverso i muri Che bello passare Salve Aspetta Mangiamo una bellissima Barretta Ma noi possiamo anche passare attraverso i banchi Aspetta Si possiamo passare attraverso i banchi Che figo Salve Sono fuori dalla mappa Aspetta Aspetta Ricarichiamoci Madonna Allora andiamo a vedere le entrate innanzitutto Ok Corriamo però se no ci mettiamo 80 anni Guarda la scopa la Brutta Corriamo Vediamo dove è la scopa È da passare Passate già Allora rientriamo nella mappa Aspettate che Usa la mia barretta La mia barretta Mi vuole da me Che cazzo E che cazzo La bocca tu posso andarmi Ah 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 ho flegato Che se lui mi vede mi mette il nuovo in posizione Solo che sarà Sarà difficile Per lui Ok siamo fuori dalla mappa Quindi i temici non possono uscire dalla mappa Allora facciamo Allora innanzitutto togliamo il noclip Allora E poi il flash mettiamo No ma ci sono i cloni di Baldi Eh però dobbiamo trovare Baldi Baldi Dov'è Baldino Vabbè ragazzi ci vediamo quando troviamo Baldi Ok ragazzi abbiamo trovato Baldi Allora andiamo su per esempio L'ulzerep E facciamo Ok Non Baldi Non funziona Si funziona Oddio Ma va così però Mi trascia Allora Mettiamone 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 Mamma mio dio quanti maestri Clona clona cloniamo 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 Clona 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 Ok togli E tu sta togli qua Stai togli Aspetta Guardate quanti Baldi ragazzi Salve salve Aspetta Abbassiamo un po' che se no ti sento tutto sto Baldi Salve Gli autografi Gli autografi E li ho lasciati a casa Non posso fare autografi Mi dispiace Baldi Madonna Così qua si sono preparato per la battaglia contro Granny Granny contro Baldi Chi vincerà? Questa è l'esercito di Baldi Gli esercito di Granny Eh Allora Allora Tutto togliamoli Togliamo? No 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 Ok Qua ci ne mancano Le mancano poi Nooo Scopettore Dovrebbero essere qui E basta Ragazzi C'è un casino totale Ma cosa sta succedendo Allora Allora C'è un pranzo Togliamoli E basta Oh Allora Mi ero Scopettore Oh Hai visto come mi spinge? Guarda Se lo becco di nuovo Giro Attivo il noclip Così vediamo Allora Cristian ci siamo? Sì Rimuoviamoli Sì Vieni qua Non ci riesco Non ci riesco Ma come no? Non ci riesco Beh Togliamoli tutti Guarda guarda come spariscono Ok Vabbè Allora Possiamo Ma non lo puoi togliere Così è facile Togliere i bordi Eh L'ho già Stoppato Non può fare Non ne può fare niente Adesso mettiamo il flash Ho messo pausa pure Aspettate Ok Cristian guarda Oh Svegna Oh mio dio Svegna Svegna Marino Ok Vediamo 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 Com'è veloce La super velocità Con il run 3 1 Migliore Quindi adesso Lo facciamo Per l'ultima volta Dopodiché Lui non ci può più Prendere 1 2 3 4 5 Ok 2 Abbiamo sempre la velocità 3 2 1 Non è Non è Sweeping time Eh Vuoi fare la cara Devo raggiungere Sweeping time 3 2 1 La cara Sono più veloce Sì io scopettone Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Allora Cosa mettiamo? Allora spero che il video Lo sappiamo Ok Allora Beh ragazzi Spero Prima di che questo video Vi sia piaciuto A Cristianino E a De Pasquale E benvenuti Allora Quindi ragazzi Se vi date un nuovissimo Il video Da De Pasquale Dici off E a Cristianino È tutto Bella ragazzi